Ciao Manu. Ciao, cos'hai? È da un po' che respiro male con quest'aria. Dobbiamo donare tutti il 5 per mille a Foresta, non costa nulla. La Onlus che fa riforestazione e conservazione dei boschi. Sì, vai su www.foresta.org e scopri come fare, perché l'ossigeno è di tutti. Allora, Foresta... No, 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 no. Si dice Foresta, ma si scrive Poresta col PH. PH come Fon? Sì. Come Filadelfia? Sì. Come PH della pelle? Sì. Come PH... www.foresta.org. Foresta. Plant in your breath. Grazie.